l'altro b vi accompagna sul second stage del sharewood 2014 la parola di oggi è musica popolare ci si riferisce con il termine inglese popular music quindi non musica pop a tutta quella musica che parla con il linguaggio del popolo ed è scritta per il popolo intesa quindi di gradimento generale diffuso e popolare a cui possiamo aggiungere la musica di folklore purché non sia per i media e per l'industria musicale su second stage salgono i selton un gruppo folk rock brasiliano loro hanno iniziato suonando la musica dei beatles al parco guel di barcellona nel 2006 poi seguono il programma di fabio volo italo spagnolo sempre girato in questa città spagnola ora roccheggiano a milano a me a christian piacciono però non ci torna una parola il 26 luglio 1965 bob dylan sale sul palco del newport folk festival con la chitarra elettrica ma dopo tre brani è costretto ad andarsene e a prendere la chitarra folk per continuare a cantare questo me l'ha detto christian il genere quindi folk rock mette insieme i due filoni il suono è caratterizzato da armonie vocali povere e da un approccio agli strumenti elettrici scarno e privo di effetti e distorsioni il selton quindi sono un gruppo rock folk brasiliano da me da christian ciao seguite sherwood.it a a a a a a a a